RIVOLUZIONE? Se non fosse stata per la rivoluzione... RIVOLUZIONE Il REX? Il REX è caduto nelle mani dei terroristi Il REX Il METAL GEAR REX Il nome e codice del nuovo prototipo di METAL GEAR Probabilmente hanno già finito di amare la testata che difendono usare con il REX I tizi sono professionisti Sanno come maneggiare e preparare le armi Ehi! Zitto, dentro! Perché ci dici di stare zitti? Vattene via! Stavamo guardando Pensavo che tutte le testate atomiche fossero dotate di misure di sicurezza Una specie di codice di detonazione da inserire Ufff! Se intendi il bar, naturalmente esistono Il sistema prevede l'inserimento di due codici per poter lanciare il dispositivo Ci sono due passwords? Esatto! Baker ne conoscevole Irola? Baker, il presidente dell'Armstech Proprio lui Ognuno di lui deve inserire la propria password o non ci sarà nessun lancio Ma... la mia è già stata scoperta Apparlata! Psicomantis! Psicomantis è in grado di leggere nella mente È impossibile che esistemi Psicomantis Uno dei membri della Forza Dotato di poteri psichici Brutta notizia Brutta notizia È solo una questione in tempo prima che ottengano anche quella di Baker Scoperta notizia Sì Grazie a tutti.